La futura sposta Io adesso sto cercando Letizia Tutti i video del mondo li sto facendo io Ciao Ah Lucy che magna Di tutte le dimensioni Bravissima Andretta Ciao Mio taccuino Lucy Magna Carissimo amico e maestro No non lo leggere Ecco che ribecco Michele Ci siamo? E ci siamo Ma mamma quante cose Vedi si vede da qui Letizia Si benissimo si che lo colpisci vai L'ultimo ancora 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 Sta prendendo forma Sta prendendo forma Un ringraziamento Non ci vuole fare Il sopporto logistico Alla famiglia Budaci Lei è brava la signora La famiglia De Muno Eh assoluto Le sedie sono arrivate Mi sono il suo amore Mari Mi dai lei che vede la macchina Sì arrivo Sì 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 Ditemi Sì ma io non me le farò Non me le posso fare così Però L'isciare Siamo rimasti fregati Vi ho preparato pure la panca La coppietta si siede Facciamo i capelli Ma dove là? Ma non lo so Dove si attacca a spino? Là Là Lì No? Allora possiamo già preparare la panca Iniziamo a portare la La panca Sì siamo nello spogliteio Ciao Ciao Dimmi Mari dimmi Ma sto bambino Che fa? Allora il video della serata Perché bisogna farlo fino alla fine Salve Sono qua Continua i video La luce si oscura Ma quando me la mettono La luce si oscura Perché? Io sono emozionato Perché Perché è venuto lo strizzo alla pancia Allora adesso per favore Io mi devo cambiare Ci dobbiamo cambiare Ci dobbiamo cambiare Ci dobbiamo cambiare Qui c'è la mia roba La luce del nostro camerino Eccolo qui Il vestito di Va benissimo Grazie